E' stato assegnato al romanzo Tu sei il prossimo di Stefano Tura, corrispondente Rai da Londra, il premio letterario biennale Francesco Serantini, giunto alla quindicesima edizione. Tu sei il prossimo è un noir ambientato tra cesenatico, dove viene rapita una bambina inglese in vacanza con la famiglia, e Manchester in Inghilterra, con due vicende parallele che a un certo punto si intrecciano fino all'epilogo a sorpresa. Il premio Serantini, con dotazione di 3.000 euro, è organizzato dal Tribunato di Romagna insieme alla famiglia Serantini. E' stato assegnato dalla giuria presieduta da Piero Meldini e a consegnarlo sono stati il primo tribuno Franco Albertini e la signora Daphne Neri Serantini. Sì, sono molto contento di aver preso il premio, di essere stato scelto per il concorso letterario intitolato alla memoria di Francesco Serantini. Romagnolo come me, ma un maestro. Non ho mai letto, non conoscevo, ma che non posso assolutamente a questo punto continuare a non leggere. Io scrivo romanti che sono ambientati in Romagna, che hanno delle storie noir, con un'ambientazione tipicamente territoriale. Serantini è stato un maestro e un precursore in questo senso e quindi è per me un grandissimo onore. Perché ambientato a Cesenatico tu sei il prossimo? Ambientato a Cesenatico perché è il posto che mi ricorda la mia infanzia, è il posto nel quale io comunque continuo ad andare quando vengo in Italia per andare in vacanza. È un posto in cui io sento che vi sono le mie radici, è un posto dove ho tanti amici ed è un posto che si è andata perfettamente per scrivere un romanzo giallo perché nessuno potrebbe mai immaginare che in una cittadina così tranquilla, così adatta per famiglie come Cesenatico, possano avvenire cose orribili come quelle che scrivo nel mio romanzo.